L'Aquila 1927 impatta 1-1 al Don Mauro Bartolini di Ascoli Piceno contro un atletico Ascoli passato in vantaggio con una vera e propria perla di Minicucci e raggiunta dal secondo gol stagionale di un Belloni nettamente in ripresa. Pagliari conferma il 4-3-3 ma cambia due interpreti dopo la gara vinta contro la Firmana. Casella fa compagnia a Brunetti nel cuore della difesa mentre Giampaolo si riappropria dell'out di sinistra in zona offensiva. La gara diretta da un Andrea Palmieri a dir poco insufficiente parte, si svolge e quasi si conclude nel primo quarto d'ora del primo tempo. Dopo una prima parte di gioco fisiologicamente di studio in cui si registrano zero emozioni infatti i padroni di casa sbloccano la gara con uno dei suoi uomini più rappresentativi. Dopo un pallone gestito con poca lucidità dall'Aquila Minicucci controlla la sfera sul vertice dell'area di rigore e con un destro chirurgico sul secondo palo toglie le ragnatere alla porta di un Michelin impossibilitato ad intervenire. Atletico 1, l'Aquila 0 al tramonto del minuto 12. Nemmeno il tempo di ripartire e i rossoblu abruzzesi raggiungono il pari. Belloni è bravo a sgusciare tra le maglie marchigiane intente a mettere il 9 in fuorigioco e al cospetto di Pompei l'argentino tocca di giustezza andando a prendersi l'abbraccio dei 150 supporters aquilani. L'Aquila che mette dunque le cose già nel verso giusto con un gol subito che avrebbe messo a terra pure un toro. Ospiti che continuano a giocare soprattutto con i fraseggi in zona centrale e con un'azione simile a quella del gol del pari sfiorano il controsorpasso poco prima della mezz'ora. L'incursione di misura che ha i tempi giusti ma il tocco da calcetto si apre troppo spegnendosi alla sinistra di un Pompei oramai impossibilitato ad intervenire. Negli ultimi minuti del primo tempo ci prova Belloni senza troppa fortuna ma il punto esclamativo lo deve mettere Matteo Michelin. Il portiere aquilano risponde da campione a Minicucci deviando in angolo l'inzuccata del 10 marchigiano. Alla ripresa delle ostilità nessun cambio tra i 22 e l'Aquila che al settimo comincia a prendere l'abitudine con l'area dell'atletico. Banegas non trova la via della rete ma il 10 argentino insieme a Giandonato sembra avere un piglio diverso rispetto alla prima frazione. L'Aquila che attacca a testa bassa ma col giusto raziocinio e al diciottesimo con Belloni rimane col grido d'esultanza strozzato in gola quando sul più bello un difensore nero-verde interrompe la traiettoria diretta in porta. Sei minuti dopo, tra le proteste di Pagliari e Co Banegas ruba il tempo alle maglie difensive e dopo un contrasto cade a terra. Per Palmieri non c'è nulla e allora si gioca. Con le immagini del nostro Mario Giacchetta rivediamo l'accaduto al rallenti. L'atletico è sornione e appena l'Aquila sbaglia va subito alla ricerca dell'avvantaggio. Michelin conferma la sua crescita andando a chiudere la porta con un'uscita davvero numero uno. Alla mezz'ora ci prova Vecchiarello con una vole alta sopra la traversa e poco dopo è Giandonato a trovare solo la deviazione in angolo. Da qui in poi succede di tutto con Palmieri che espelle erroneamente Mazzarani per fallo da ultimo buomo salvo poi correggersi dopo l'intervento dell'ottimo Lovecchio che gli segnala il vero colpevole cioè ad Alessandro. Negli spiegabili cinque minuti finali cioè quelli di recupero che sarebbero dovuti essere almeno otto tra cambi effettuati e gioco fermo post espulsione Banegas ci prova di testa ma Pompei respinge distinto sui piedi di Giannini pescati in fuorigioco sul secondo palo. Prima della fine Banegas ci prova ancora in allungo ma il suo destro non si incontra con la sfera.